Il medico originario di Polla Gianni Barone è stato eletto presidente della Società Napoletana di Chirurgia. Barone si è laureato in medicina e chirurgia nel 1975 all'Università Federico II. Sempre nello stesso Ateneo ha poi conseguito le specializzazioni in chirurgia generale e in chirurgia vascolare, entrambe con il massimo dei voti e la lode. Negli anni seguenti ha inoltre ottenuto l'idoneità nazionale a primario di chirurgia generale e di chirurgia vascolare. Dal 1996 al 2007 è stato poi direttore della struttura complessa di chirurgia generale e vascolare dell'ospedale della Villa dei Fiori ad Acerra, dove ha ricoperto anche l'incarico di direttore del dipartimento. Tra il 2008 e il 2011 è stato poi direttore di chirurgia dell'ospedale di Cassino, mentre dal gennaio del 2012 ricopre l'incarico di direttore del dipartimento di chirurgia dell'ospedale. Fate bene, fratelli di Napoli! È un piacere e un grande onore essere insignito per il prossimo biegno di questa carica prestigiosa, ha commentato Gianni Barone, che nella storia quasi centenaria dell'associazione è stata ricoperta dai lustri chirurghi. Sono orgoglioso, ha aggiunto il medico pollese, di far parte della grande scuola napoletana di chirurgia, che grazie all'eccellenza dei grandi maestri in passato e delle nuove leve oggi, contribuisce a dare lustro alla medicina e alla cultura della nostra città.